oggi parliamo di una novità presentata all'ultimo congresso della società americana di ematologia l'ascia san diego che riguarda la cura della leucemia amiloide acuta e riguarda da vicino i pazienti italiani con questa forma di leucemia al convegno infatti sono stati presentati i risultati di uno studio italiano lo studio gmema aml 23 20 in cui si è valutato l'impiego della combinazione di due farmaci venetoclax che è un inibitore della proteina antiapoptotica bcl2 e un agente ipometilante della pratica clinica italiana noi ne parliamo con l'autore che ha presentato i dati al congresso il professor adriano venditti dell'università torvergata di roma professore prima di tutto che cosa ci dimostrano i nuovi risultati dello studio gmema aml 23 20 che avete riportato quest'anno congresso di san diego all'asci dati presentati all'asci 2023 del gmema sono dati che confermano l'efficacia della combinazione benetoclax più ipometilanti in una popolazione di pazienti non elegibile a chemioterapia intensiva o di età pari o superiore a 75 anni e questo il beneficio di questo approccio è dimostrato e confermato da durate di sopravvivenza mediana sovrapponibili a dati precedenti e quindi di estremo interesse professore ci spiega esattamente che cos'è lo studio gmema ml 23 20 e perché come avete condotto questo studio e perché l'avete effettuato dunque lo studio è uno studio di quelli che noi definiamo osservazionali prospettici ossia non c'è un intervento terapeutico da esplorare ma si vuole verificare nella vita di tutti i giorni qual è la l'efficacia e quali sono gli effetti collaterali di trattamenti che sono stati sperimentati in tra gli alclinici precedenti che hanno portato all'approvazione dei farmaci e di fatto noi abbiamo raccolto un'ampia serie di pazienti con lecemia melodi acuta o non elegibile a chemioterapia intensiva o di età pari o superiore 75 anni e che sono stati trattati nella vita di tutti i giorni con la combinazione benetoclax ed ipometilante metilante appunto per verificare l'efficacia della combinazione e i suoi effetti collaterali in modo da poter derivare un confronto nella vita reale nella vita pratica con l'esperienza che invece è stata generata nel mondo diciamo idealmente perfetto del trial clinico e dunque professore quali sono i nuovi risultati dello studio perché appunto ricordo che avete presentato un aggiornamento di questo studio per quanto riguarda l'efficacia di questa combinazione benetoclax più eh lipometilante che era il farmaco azacitidina in questi pazienti? Eh diciamo che per il quello che era l'intento l'obiettivo dello studio non parlerei di nuovi dati ma parlerei di dati eh confortanti in quanto dati che si allineano con quelli eh osservati nel nel trial clinico il viale A che ha portato poi alla all'approvazione del farmaco. Effettivamente lo studio GVMA eh si proponeva eh nel contesto di una valutazione di vita pratica di eh real life come si dice si proponeva di valutare come end point primario come obiettivo primario la durata della sopravvivenza e ehm il come end point secondario la 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 frequenza di risposte ossia la frequenza di ottenimento delle emissioni complete e fra gli end point primari c'erano anche altri aspetti quale ovviamente il profilo di sicurezza e mh e in questo senso ribadisco che eh l'esperienza è stata molto confortante perché si allinea assolutamente con quello che è stato osservato sperimentalmente non solo nel viale A ma anche in altri trial clinici similari. Ma quali sono dunque i risultati di sopravvivenza? Ci dà qualche numero? Certamente dunque la sopravvivenza eh direi che colpisce molto perché parliamo di una sopravvivenza mediana di quattordici punto due mesi praticamente sovrapponibile a quella dello studio clinico registrativo il viale A nel quale la eh durata mediana della sopravvivenza è di quattordici punto sei mesi quindi sostanzialmente sovrapponibili. Direi che interessanti sono anche le frequenze di risposta, il rate di risposta perché nel eh nello studio registrativo il viale A sono frequenze che eh si aggiravano intorno al 65, 66 per cento eh anche se di poco eh il il lo studio italiano ha avuto una performance superiore se vogliamo perché siamo intorno al 72 per cento di di risposte. Quindi si conferma questa è una terapia efficace e peraltro con un profilo di sicurezza che eh possiamo dire in termini di effetti collaterali sovrapponibile a quanto imparato eh nel viale A quindi nel trial clinico registrativo e in altri in altri trial eh similari. Ma dunque eh professore nella vostra esperienza nella pratica clinica italiana la combinazione dei due farmaci è risultata ben tollerata? Eh dunque la combinazione eh direi che non eh ha dimostrato nella nostra pratica eh un profilo di sicurezza che potesse essere peggiorativo o preoccupante rispetto a quanto generato nel viale A e negli altri studi eh che hanno esplorato la combinazione. Quindi direi che eh va sottolineato come ci siano nell'ambito di questo studio che ha raccolto dati di real life ci siano stati diversi aggiustamenti della schedula e della dose del venetoclax. Questo è un aspetto che dovremmo esamerare meglio per capire come l'ematologo italiano si comporta rispetto al dosaggio e alla durata del del venetoclax da 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 somministrare. Però ecco eh in generale direi non eventi avversi o effetti collaterali peggiori rispetto a quanto noto e quanto osservato nei trial clinici. Dunque professore sulla base di questi risultati delle cose che lei ci ha appena raccontato che messaggi si possono ricavare e diciamo dalla vostra analisi e che riflessi potrebbero avere potrebbero o dovrebbero avere i vostri risultati sulla pratica clinica futura? Beh innanzitutto il risultato più immediato è non trascurabile e che noi abbiamo voluto tracciare un po' una fotografia di come l'ematologo italiano si comporta eh il momento in cui utilizza una nuova combinazione eh rispetto alla quale dobbiamo diventare senz'altro più familiari e quindi probabilmente abbiamo ancora da imparare. Però secondo me l'altro aspetto importante se vuole è anche la la proiezione futura perché la combinazione ipometilante venetoclax rappresenta ormai una sorta di piattaforma rispetto alla quale si cominciano a sviluppare anche nuove terapie. Oggigiorno si parla di triplette quindi nuovi farmaci, nuovi agenti che vengono aggiunti al venetoclax e all'ipometilante o per i pazienti invece che possono ricevere chemioterapia intensiva si parla di combinazioni di chemioterapia intensiva più venetoclax. Quindi questo ritengo sia l'esperienza italiana del Gmema ritengo sia un ulteriore tastello che si aggiunge eh ad un mosaico che si viene formando e che secondo me arricchisce la la conoscenza che noi abbiamo di questi nuovi farmaci.